Crespano del Grappa è finito a processo per falsità materiale un 42enne di Crespano che approfittando dell'assenza della madre ricoverata in una casa di cura ha falsificato la sua carta d'identità per venderle l'auto. L'uomo avrebbe sostituito la foto sul documento dell'anziana madre con quella di un'altra donna, sua complice, mantenendo i dati anagrafici per farli corrispondere a quelli presenti sul libretto di circolazione e sull'atto di proprietà del veicolo una Fiat Panda. Il secondo passaggio è stato falsificare timbro del comune di Castelfranco e firma del funzionario incaricato. È quindi riuscito a trovare un acquirente disposto a dargli 7 mila euro ma l'amministratore di sostegno della madre ha scoperto tutto e denunciato il fatto. A metà novembre dovrà presentarsi davanti al giudice, rischia fino a quattro anni di carcere.